In questo video impariamo brevemente come visualizzare uno shapefile in diversi modi. Cominciamo da uno shapefile superficiale, andiamo su tasto destro proprietà, vedete che abbiamo diverse possibilità, singolo simbolo o categorizzato, in questo caso dobbiamo con la epsilon scegliere il campo che ci interessa, noi vogliamo visualizzare questo sulla base della potenzialità, gli diciamo classify e lui fa le classi. Ovviamente ne aggiunge una in più che noi dobbiamo togliere e poi se non ci piace la scala di colori possiamo sceglierne quante ne vogliamo, possiamo anche dirgli di invertire, ma sempre dobbiamo dargli classify e togliere l'ultimo. Posso anche decidere per esempio di cambiare un colore alla fine, vedete ci sono numerose possibilità, diamo applica e questo poi è il risultato. Abbiamo poi la possibilità di visualizzare per esempio degli shape puntuali, in questo caso sono dei siti come graduati e possiamo farli anche qui categorizzati per esempio il periodo e abbiamo tutte le diverse possibilità, anche qui possiamo scegliere una graduazione di colori, ma possiamo anche fare un ulteriore lavoro, vedete posso decidere per esempio che questi etruschi li faccio con una stella, la pre-storia la faccio con un triangolo. Quindi gli do applica e ho questa visualizzazione. Possiamo fare un ulteriore lavoro interessante, qui abbiamo estratto dei siti preistorici, andiamo a proprietà, gli diciamo di fare un graduato, anziché sul colore, scegliamo sulla dimensione nel campo, in questo caso abbiamo dato affidabilità, abbiamo quattro siti, ecco, e questo è il risultato, vedete, se noi togliamo gli altri abbiamo i siti che sono visualizzati in modo proporzionale, questo può essere molto utile per esempio quando si vogliono visualizzare siti di un certo periodo in relazione alla quantità di materiali presenti di una certa classe.